Controlli di persone sottoposte a misure restrittive, le volanti denunciano un uomo e una donna. La Polizia di Stato ha effettuato dei controlli nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale affinché le stesse vengano puntualmente rispettate. Nel caso di un'osservanza delle prescrizioni si rischia il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere. Nel corso dei quotidiani controlli a coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, gli agenti dei lavoranti hanno denunciato per evasione una donna di 34 anni e un uomo di 43 anni, entrambi sottoposti agli arresti domiciliari e assenti al controllo.